Secondo quale rompere la... Hai visto il curan? Qualcuno dice sistemarmi, qualcuno dice piantare un gran casino. Ciao Walter, ci vediamo lunedì, lunedì al col San Bernardo. La squadra lampre di bascappè. Tutti giù! Tutti giù adesso, prima tutti giù! Vada via, è scurto! Un po' di paesi! Un po' di paesi! Siamo arrivati fino all'ultimo tratto pedalabile, adesso incomincia il sentiero per arrivare al passo, direi che è stata abbastanza dura, si è fatto sentire soprattutto il culo. E poi mancherà? Sono 300 metri di slivello, comunque merita il paesaggio molto bello, adesso ci rifuciliamo un attimo, aspettiamo gli altri e poi partiamo, ciao!